Aiutatemi, mio padre ha una pistola. La richiesta di aiuto, arrivata da una 17enne al 112, nella serata, ha fatto subito scattare l'intervento delle forze dell'ordine. Sono le 22.30 quando arriva l'accorato appello dall'altro capo del telefono i poliziotti della volante di Arezzo, che arrivano al domicilio della ragazza ed in effetti il padre, un 49enne pregiudicato, verrà poi arrestato. L'uomo e la figlia avevano avuto l'ennesima discussione perché la ragazza aveva intrapreso una relazione sentimentale con un coetaneo poco gradito al 49enne. La preoccupazione della ragazza, spiegano dalla questura, è scaturita dal fatto che il padre, dopo il litigio, si era diretto verso un ripostiglio nel giardino dietro l'abitazione, aveva preso un oggetto molto somigliante ad una pistola. La giovane si era poi allontanata per chiedere aiuto. Nell'abitazione gli agenti hanno infatti ritrovato varie parti di una pistola a tamburo non registrata e priva di matricola, nascoste in più punti della casa, e due grossi involucri in cellofan contenenti circa un chilo e mezzo di marijuana ed infine una baionetta, anche questa non denunciata. L'uomo è stato arrestato.